L'importanza di un convegno che si sta e si è tenuto qua a Ferrara, che convegno è e che cosa deve emergere da questo convegno? Questa è una società scientifica internazionale dedicata allo studio delle malattie neurovascolari, quelle classiche come l'ictus che sapete è la seconda causa di morte e frequente causa purtroppo di disabilità, ma anche questo gruppo, che è un gruppo interdisciplinare, crede fortemente che le malattie vascolari offrono uno specchio di spiegazione per malattie sconosciute, che sono le cosiddette malattie neurodegenerative, quindi Alzheimer, demenza, sclerosi multipla, Parkinson. Vengono tutte studiate anche da un punto di vista vascolare e ogni anno questi gruppi si ritrovano per questo meeting. Oggi tante le novità emerse, prima di tutto quella legata a Brave Dreams, che aveva, diciamo così, una sorta di epilogo, ma dal quale poi invece si è ripartiti. Così? Beh, è una specie di arba fenice, cioè noi ci eravamo lasciati su uno studio tutto sommato negativo, che era quello che aveva spacchettato i dati senza suddividerli, in cui non erano immerse delle evidenze, ma in cui eravamo fortemente convinti che esistesse un sottogruppo di persone con sclerosi multipla che potesse avvalersi di un intervento di angioplastica nelle vene gioculari. Il problema era come identificarlo in anticipo. Quindi, sotto analisi che sono state fatte attraverso un gruppo internazionale che ha, in cieco, riclassificato tutti i filmati degli interventi, questi filmati sono stati praticamente suddivisi in presentazione favorevole a fare l'angioplastica col pallone, presentazione non favorevole. Andando poi a vedere che cosa era capitato, abbiamo visto che le presentazioni favorevoli hanno un rischio bassissimo di avere nuove placche di sclerosi multipla, diciamo, nel corso del cosiddetto follow-up, del controllo dopo. Viceversa, le presentazioni sfavorevoli è come se non avessero fatto un intervento, cioè hanno lo stesso andamento di persone che fanno esclusivamente la terapia medica. La cosa, quindi, il messaggio importante è che persone che sarebbero sottoposte a questi interventi a pagamento in modo inutile, vengono praticamente protette da questo tipo di destino. Ma persone, e sono una percentuale non piccola, ecco, che può andare a seconda dei casi, da fare il 30 al 50%, possono essere trattati con vantaggio da questa tecnica, andando quindi ad avere un'ulteriore arma nell'arsenale delle terapie possibili. Quando pubblicheremo questo, diciamo, sarà un'evidenza importante e quindi questo potrebbe anche portare che in centri, ovviamente, di riferimento, non dappertutto, questa terapia possa anche essere erogata un domani attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Quindi adesso, oggi è stato ufficializzato questo passaggio molto importante, il prossimo step, quale sarà? Il controllo su che cosa? Come vi muoverete qua a Ferrara? Ma adesso, diciamo, quello che dobbiamo fare è che questi risultati vengano pubblicati, vengano soprattutto anche diffusi e discussi, per cui, in una successiva fase, naturalmente, essendo uno studio no profit che è stato praticamente finanziato con danaro pubblico, questa cosa dovrà essere considerata e discussa in ambito politico e quindi questo è sicuramente il lavoro che noi dobbiamo fare. L'ultima domanda la faccio dalla parte dei pazienti, dei malati, che hanno questa patologia e che, insomma, continuano a sentire delle informazioni, prima negative, positive, negative. Dalla parte del malato, da chi è paziente, che cosa si sentirebbe di dire? Che consiglio darebbe? Dunque, che noi abbiamo avuto dieci anni molto travagliati perché non si è avuta ormai la pazienza, né da parte dei pazienti, né da parte degli oppositori, né da parte di chi era d'accordo, di attendere che la ricerca finisse. La ricerca è stata in questo modo ostacolata e ha impiegato ancora più tempo. Non è colpa di nessuno, però questo è quello che è avvenuto. Probabilmente, se avessimo potuto lavorare bene, avremmo guadagnato qualcosa come 5-6 anni e quindi queste cose sarebbero disponibili con un lustro di anticipo. Quindi quello che io prego adesso è di andare avanti i ricercatori, di lasciarsi interfacciare senza condizionamenti con chi ci governa in modo da poter presentare queste cose e poterle rendere reali.